Ehi mamma e papà, siete pronti a vedere i vostri bambini sorridere durante un prelievo? Grazie al sostegno del dottor May al Centro Medico Esculapio, abbiamo creato uno spazio accogliente per rendere i prelievi un'esperienza positiva per i più piccoli. Come? E con l'aiuto di Dino. Sei grande piccola amica, ora sei ufficialmente una piccola eroina, proprio come me. Centro Medico Esculapio, prelievi pediatrici solo su appuntamento. Lucca, Viale San Concordio 665.